Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento metodi TRG, giornata che sarà per lo più soleggiata nella sua prima parte, mentre a partire dalla tarda mattinata primo pomeriggio avremo i primi annuvolamenti a partire dai settori orientali della nostra regione e nel nostro appennino dove sarà possibile anche qualche piovasco a partire dal primo pomeriggio, avremo una quota neve in appennino che si attesterà intorno ai 1200-1400 metri, nel resto della regione non dovremmo avere precipitazioni di rilievo se non nel sud regionale in tarda serata, avremo le temperature minime fra i meno 2 e 0 gradi mentre le temperature massime resteranno stabili e si attesteranno fra i 5 e 7 gradi. Giornata di domenica, giornata di domenica che sarà abbastanza movimentata soprattutto nella sua seconda parte, infatti i cieli partiranno su tutto il territorio regionale poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, ma nel corso della giornata avremo un aumento della nuvolosità che potrebbe produrre piovaschi su tutto il territorio regionale, avremo temperature più fresche in entrata quindi anche la quota neve soprattutto in appennino si abbasserà intorno ai 600-800 metri, nel resto della regione naturalmente non avremo probabilità nevose ma avremo comunque piovaschi sparsi per tutto il corso della giornata, avremo le temperature minime stabili intorno ai meno 2 e 0 gradi mentre le temperature massime saranno il leggero calo e si attesteranno fra i 3 e 5 gradi. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento.